Gli italiani vivono gravi difficoltà economiche, con rincari record di bollette, aumenti delle tasse e lei cosa fa? Viene in Parlamento a fare battute ironiche sulla mia pochette? Ma lei ieri si rende conto che un suo senatore e il suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba veramente degradante sul Presidente Macron? Ma è questa la vostra politica esta? Cos'è un copione comico? Ma lei è Presidente del Consiglio dell'Italia, non è un capo comico, siate seri, ma secondo lei il problema degli italiani è la mia pochette o l'elmetto che si è messo in testa e che ha messo all'Italia?